La settimana scorsa siamo andati lì al fabbricato perché quello lì siccome ce l'hanno approvato lo vorremmo fare. Uno dei primi che vedemmo, sai quello in via Trento Trieste che viene fuori dalla linea degli altri? Allora se noi adesso arriviamo a fare una proposta progettuale io convoco i proprietari e poi dopo facciamo una gara e facciamo i lavori. Penso, ti interessa fare quello lì? Allora io ti ho detto come stanno le cose perché siccome l'abbiamo visto all'inizio mi sembrava corretto dirti se ti interessa, voglio arrivare a dire questo, bisogna che mi faccia questa ipotesi in tempo brevissimo, in modo che noi contattiamo i proprietari, poi se sono d'accordo facciamo sempre che c'è da fare. Ecco io in questa fase con loro ho detto che quella gente lì sono i miei collaboratori, non mi vogliono, dopo che alla fine lo fai tu e li paghi tu bene un altro paio di maniche, perché però ho detto che è gente che lavora per me. Hai fatto benissimo. Grazie. Grazie.